ah io c'ho le cuffie? sì ma io non mi voglio allora non mi voglio sentire non sentire ti senti male mi garba di più in questa maniera che sento gli ambientali in questa maniera mi piace sempre per sostituire così questa maniera è più comodo ci siamo? sì tu hai fatto la scaletta? sì la scaletta di cosa? stronzi ma di cosa? cosa devi scalettare? cosa devi scalettare? facciamolo ma per comodità almeno facciamo lo speciale di ah vabbè ok tra l'altro è la puntata 36 o è una puntata speciale? perché sai che apre uno scenario interessante se è una puntata speciale venerdì prossimo c'è la 36? no abbiamo già stabilito che è fra due e allora è la puntata 36 facciamo così per ragioni di scadenze di embargo puntata 37 è la 37 per ragioni di scadenze di embargo dobbiamo fare vabbè ci ho provato era un tentativo per farne tre in un mese ma bentornati a joypad cioè corri salta e spara noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini i più assidui ci hanno ascoltato nella puntata nella puntata? 36 la settimana scorsa scusate non sono non sono abituato a registrare una puntata da una settimana all'altra e mi svalvola tutto e facciamo una puntata speciale diciamo anticipata dico diciamo anticipata perché se è una speciale essendo zampa nerd deve fare una sottocategoria puntate speciali e non si sente soddisfatto allora o è la puntata 37 o è una puntata speciale è la 37 e allora non è speciale è una puntata 37 è una normalissima puntata 37 solo anticipata perché c'è stato un evento però è episodio non è puntata c'è stato un evento di sony che presentava i nuovi prodotti per playstation 5 nuovi imminenti diciamo da quelli che escono tra pochissimo a giochi annunciati per il 2023 ecco imminenti è forte come definizione zampa che differenza c'è fra i episodio e puntata abbiamo utilizzato episodio perché ci siamo allineati a come friends ha sempre titolato i suoi episodi quindi quello con se è puntata e quella con sbagliamo tutto va bene possiamo andare avanti sì cioè partire c'è stato questo evento di 40 minuti di presentazione come si chiama playstation showcase showcase 2021 tanti prodotti per ps5 una presentazione dietro l'altra ogni tanto la comparsa del boss di playstation e poi del boss degli studi in dei videini che dicono ah siamo molto contenti l'entusiasmo perché il prodotto è l'elefante nella stanza che non c'è lo vogliamo affrontare adesso lo facciamo dopo di che elefante sta parlando il fatto che non ci sia fisicamente l'elefante nella stanza cioè che stiamo proponendo dei prodotti che devono girare su un oggetto di elettronica di consumo che per la prima volta nella storia dell'elettronica di consumo ha una domanda vertiginosa e non è che dici ah è il play date una piccola console indie no no la playstation 5 non si trova è però vero che a parità di uscita nei negozi non è che abbia venduto meno di playstation 4 anzi ha venduto di più però è la domanda che è aumentata è la domanda che è aumentata però a in termini di base installate quindi di quante playstation 5 ci sono dopo otto mesi dal lancio rispetto a playstation 4 siamo sugli stessi numeri che erano già più alti della 3 però secondo me è proprio un'occasione sprecata nel senso che hai lavorato un'intera generazione per allargare i confini del medium cercare di andare a interessare altre fasce di pubblico e adesso che effettivamente quella strategia poteva funzionare anzi ha dimostrato di aver funzionato e però però quella strategia non trova sfogo è vero però credo che sony in questo caso non abbia troppo controllo sulla crisi globale dei semiconduttori o dei porti chiusi perché una persona in cina al covid come è successo due settimane fa forse non è una questione di responsabilità è sfiga anche perché siamo nella situazione di dipendenza totale dalla cina per i microprocessori e questo forse cambierà gli assetti in futuro perché al momento tra l'altro è anche chiaro che essendo un mercato interno enorme se loro devono favorire qualcuno favoriscono il mercato interno cioè ho idea che ci siano anche queste dinamiche visto le ultime dichiarazioni di del presidente cinese non lo so se è un settore nel quale vogliono spingere tanto visto che hanno per esempio aveva per esempio detto che il gioco online per i ragazzini è solo limitato a tre ore alla settimana ma io dico infatti microprocessori non console cioè se huawei non vuole avere i negozi vuoti e non poter vendere i telefoni la fabbrica ah beh sì se non è riferito solo alle console certo loro non non ne fanno praticamente no le fanno solo per per prodotti diciamo almeno di targa statunitense di targa ma senti come parlo sì secondo me questa questa situazione ha un po polarizzato così entriamo anche in argomento la comunicazione di sony perché vi anticipo un po quello che penso di tutta la conferenza per me è una conferenza molto rinunciataria che evita proprio di guardare al futuro e cerca di concentrarsi su questo momento qui con produzioni che arrivano anche su playstation 4 cioè non è più la sony che ti indica la strada che percorrerà e ti dà una fascinazione molto forte su quello che arriverà è la sony che guarda un attimo ai prossimi mesi non sono mancati annunci più sulla lunga distanza però erano annunci che molto sul sicuro con l'etichetta marvel che acchiappano anche il grande pubblico non è la sony che si inventa i mondi ecco è la sony che si guarda intorno e mostra il catalogo sì mostra il catalogo io ho preso dei piccoli appunti guardando la conferenza a volte forse saranno politicamente inaccettabili quindi li tradurrò in italiano ma sono pronto a raccontare insomma quello che si è visto dal primo all'ultimo gioco dal primo parti proprio dal primo voglio vedere la tua reazione sul primo che secondo me è stata allora star io ho scritto star wars new republic remake kotor night of the old republic mi hai già sbagliato nel primo appunto ma sono tanto è quello gioco quello lì poi io i nomi li sbaglio si sa notoriamente sottoscritto non me ne frega niente parlatemene allora knights of the old republic è uno vabbè la forza è qua non è che l'ho inventato no no è vero è esattamente esattamente così è uno dei giochi più apprezzati e riusciti dell'universo dell'universo star wars bioware sì aveva fatto bioware prima cioè la vecchia bioware quando ancora funzionava tutto e ogni cosa che tirava fuori era era un centro a me ha accolto abbastanza abbastanza di sorpresa per quanto ne sia contento non ho giocato molto l'originale perché era una roba pc per l'utenza pc e star wars quindi insomma due sotto insiemi di nerdismo che era abbastanza difficile riuscire a incastrare solo perché non avevo un pc e perché altrimenti mi ci sarei buttato a pesce no allora per gli appassionati di star wars è un po la bibbia la bibbia cioè sia il primo che il secondo perché il primo da bioware il secondo da obsidian quindi diciamo che è un franchise una saga franchise scusami perdonami perdonami guarda dalla scorsa puntata mi sembra che ormai abbiamo deciso che vale tutto no perché poi dopo franchise è una franchigia e poi ciao vi saluto vado via è una saga insomma apprezzatissima e infatti comunque si è stato un annuncio ben recepito però matteo ti dico la verità forse anche questo sarà un commento politicamente poco accettabile però anche a me me ne frega marginalmente nel senso che è un'esperienza che io ho già vissuto fra l'altro sviluppata da un team che è aspir media che non si è proprio distinto negli anni per la qualità degli adattamenti che ha fatto e quindi sono più solidi che muniti di personalità sicuramente e poi anche come è stato presentato non si è visto veramente nulla e chiaramente una strizzatina d'occhio ai fan di lungo corso e stop veniamo al gioco numero due io ho scritto gnocchetta eroina salva il mondo mostri cefalopo di rettiliani mostroni enormi coreata projective io ho messo semplicemente baionetta cinese sì sì è esattamente quello era un gioco anche questo non è nuovo e è stravagante che per la prima mezz'ora playstation abbia fatto vedere solo giochi già annunciati tra l'altro alcuni anche indirittura d'arrivo perché ha fatto vedere anche deathloop che esce letteralmente quattro giorni dopo la conferenza questo si era visto a gennaio ed è un mischione un po' di baionetta un po' di devil may cry insomma in termini di azione esplosiva abbastanza anonimo molto anonimo fra l'altro cioè munito di elementi tutti molto ben riconoscibili però allo stesso tempo già noti e ha il senso proprio di un assemblaggio sì sì un mischione si dice in toscana ma probabilmente anche altrove è inaspettato lo screen time che gli hanno dedicato ma è durato tantissimo boh sì non si sa perché sicuramente per gli appassionati dell'azione ok potrebbe anche essere interessante ma secondo me finisce lì ok spostiamoci al successivo io ho scritto pirati teschi fatto tipo borderlands colonna sonora delle baby metal cell shading buffonate fantasy giochi di parole unicorni tiny tina's wonderland io non so se c'è tantissimo altro da aggiungere che possa definire meglio quello che abbiamo visto perché è letteralmente quella cosa lì io voglio aprire assolutamente una rubrica in cui pubblico soltanto gli appunti di bordone così comunque è uno spin off di borderland sviluppato da gearbox edito da 2k prende un po' il mondo il concetto del gioco di base ma lo riporta in un ambiente un po' più un po' più fantasy classico un po' più bizzarrone se già può esserci qualcosa di più bizzarrone di borderlands io mi sono fatto l'idea che per come gioco io è quella la roba che prendo dico ah figata lo dobbiamo giocare in 4 e dopo 25 minuti poi torno a giocare a destra io oggi faccio quello che si lamenta l'avevano annunciato un po' di tempo fa si chiama wonderlands appunto per sottolineare questo avvicinamento al fantasy poi ieri finalmente si è visto e la metà del trailer citava lots of guns e si sparava quindi è proprio borderlands 3.5 è borderlands con un sapore un pochino più più infantile più pop è borderlands coi castelli esatto come adesso amici non odiatemi come fallout è sempre stato oblivion con le pistole e viceversa e fallout era oblivion con le lance cioè skyrim gioco successivo io ho scritto square luminus annotazione diciamo di studi luminus è il motore però non lo studio square ok sì ma non mi guardare con quella faccia da stronzo e sai che quando c'è square mamma mia un'altra che spara i mostri con la scrittura teenager tutta sagace commedia una della contemporaneità finisce nel mondo fantasy deve salvarli dai cattivissimi ma lei non vuole però poi si fa convincere for spoken un po due palle io è la puntata migliore che abbiamo mai registrato ragazzi allora bisogna poi fare degli estratti e la mettiamo come real ogni descrizione diventa diventa questa cosa e mi risulta poi difficile ricamare sopra soprattutto questo è un gioco di square enix sviluppato con il motore luminus certo certo lo sapeva pensavo fosse un altro pezzo della gente degli aiutanti di square ci saranno gli uffici di luminus dentro è sviluppato da lo stesso la stessa unità produttiva di final fantasy 15 che ha deciso di tenere le cose belle di final fantasy 15 cioè parte del sistema di combattimento i teletrasporti la prima parte di mondo aperto e ci ha messo poi sopra questa sovrastruttura della teenager che vuole andare a narnia a me sinceramente è piaciuto più delle ultime volte ed è stata una delle cose più interessanti che hanno che hanno mostrato anche se non era dei loro studi first party ci credo abbastanza sì condivido assolutamente nella prima parte del dello showcase è stata la parentesi più interessante la narrazione proprio modello isekai che è un genere di manga in cui insomma un protagonista viene trasportato in una realtà parallela fantasy piacevole sono molto curioso di giocarlo bene vado al successivo rainbow six extraction mondo che può finire perché ci sono i terroristi cattivi mostri super high tech chi se ne frega guarda andiamo oltre sì credo sottolineo il chi se ne frega fosse l'espansione di rainbow six che poi è diventata una cosa a sé stante bravi stimiamo chi ci gioca ma anche no ok ecco un bel survival horror zombie classici campagnoli cattivi alla wake remastered però io scrivo mentre vedo le immagini salutiamo andrea porta che appena avuto una sincope sì andrea che apprezza tantissimo insomma tutta la produzione di remedy che è il team di sviluppo che ha di recente insomma prodotto control prima di control insomma ha lavorato ad altri titoli alan wake era uno di questi una vecchia esclusiva di xbox 360 che era proprio un thriller molto particolare sì c'erano degli elementi un po' horror un po' cupi però non è un survival horror classico ovviamente l'elemento di valore lì è la scrittura di sam lake che è l'autore centrale di remedy e la faccia di max pain e la faccia di max pain esatto ed è insomma un racconto molto bello parla di un autore in crisi creativa che poi ha tutto un rapporto con un elemento paranormale che sembra arrivare proprio dai mondi che lui si immagina ho fatto un riassuntone proprio estremo il gioco è un po' invecchiato ma adesso ha un valore extra perché remedy ha deciso proprio di integrarlo all'interno dell'universo narrativo di control e quindi anche degli elementi di questo aspetto paranormale oggi possono essere riletti anche alla luce di quello che si sa su control su jesse faden sul rapporto fra i due personaggi la prima volta che alan wake arriva nel mondo playstation lo fa con un'edizione completa con due dlc che prima erano stati un po' tagliati diciamo dal finale sì è una remastered vale il recupero sì secondo me sì però non valeva secondo me l'introduzione cioè l'inserimento all'interno della conferenza perché era stato annunciato un paio di giorni fa sappiamo tutti un po' che cosa aspettarci ho trovato strano che abbiano deciso di infilarcelo ok quindi lo aspettiamo con una certa trepidazione ma trepidazione calma di chi dice ah rigiochiamoci alan wake che adesso è cambiato ta 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 è diventato quest'altra roba ecco vediamo se il prossimo ci convince di più giapponata a shibuya ti si scioglie la faccia nebbia mortalissima cattivi senza faccia mostri tradizionali fatti cattivi tanta paura sembra bello ghost wire tokyo allora tutto tutto giusto tranne quel sembra bello finale perché a me piace l'ambientazione l'idea ogni volta che vedo il personaggio muoversi e fare delle cose mi sembra un po' non lo so un po' vai a sapere allora questo è il gioco sviluppato dallo studio di shinji mikami che si è fatto una storia nei survival horror partendo da resident evil per arrivare poi a un recente tributo a quell'immaginario lì a quei meccanismi che è appunto the evil within poi non è riuscito più a pagare il mutuo esatto e adesso insomma si è buttato su ghost wire tokyo con cui non pagherà il mutuo ed è ha mantenuto un po' le fascinazioni horror ma declinate con un meccanismo di combattimenti in prima persona io sono d'accordo quando matteo dice sembra bello perché se non altro quell'immaginario di una tokyo moderna in cui però spuntano questi yokai tutti deformati incattiviti proprio resi mostruosi a me affascina non si è capito nulla di come si gioca no no nulla però doveva uscire quest'anno è già stato rimandato lo ricordo con affetto solo perché quando fu presentato c'era quella sviluppatrice tenerissima che poi credo abbia anche abbandonato il progetto ed è stata una delle cose più belle di quelle tre proprio vedere l'entusiasmo di questa il suo entusiasmo però è sparito quindi magari ha sentito un po' un odoraccio era mal riposto era un passi adesso tu vuoi no ma cosa ne sappiamo va bene guardians of the galaxy troppa roba è un film due maroni buffa la scrittura al solito al solito sono sempre molto a fuoco questi tuoi commenti matteo è perché guardians of the galaxy a me piace molto è un film che mi fa ridere da matti piangere proprio mi piace quella scrittura lì mi piace tutto e trovo che sia perfetto la versione con sì va bene ogni volta si devono fermare per dire ah battute sagace risposta top mossetta cioè poi le battute a differenza di quello che succede nei film nella musica nei videogiochi se la battuta è ripetuta se io ritorno e rifaccio risento la stessa battuta otto volte se devo rifare un livello che è una roba che uccide anche le migliori battute di woody allen quando aveva 25 anni quindi trovo sempre un po' pesante come quel disco di lory neill che era fatto doppio perché lei aveva lasciato nel live tutti i discorsi fra un pezzo e l'altro e fu l'inizio del disastro perché non lo risentirai mai aspetta qui racconta di quando era piccola troppa comicità dentro a io trovo scusate secondo me è anche frutto del montaggio che vuole andare in quella direzione darti e darti quel mood non sono convinto che poi su un'avventura single player di quel tipo ci sia costantemente questa ricerca della gag della gag visto così era probabilmente l'idea che si volevano che loro volevano dare di quella cosa lì che non funziona sempre sì che è anche l'unica ragione per cui è uno dei film di supereroi che uno guarda anche se sia un po' stufato dei film di supereroi vero perché è scritto in quel modo io sui giochi sui giochi marvel che non riescono non vogliono non possono per questione di diritti andare a prendere la parte visuale di quel di quel mondo faccio sempre una fatica incredibile perché sembra sempre la pezzonata per quanto poi sia bello il gioco e a me da respinge non ci posso fare niente io dirò solo una cosa che ripeterò almeno altre due volte prima della fine dell'episodio ovvero basta marvel nei videogiochi basta ne dobbiamo ancora nominare due appunto allora il successivo è così vampirazzi vampironi urbano multiplayer bloodhunt sì io questo skipperei mi sembra davvero trascurabile sì un battle royale con i vampiri nell'universo di vampire the masquerade free to play quindi se a uno gli piacciono i vampirazzi e i vampironi se lo può anche provare ah va bene qui non avevo capito che pensavo ho detto ma questo non ne abbiamo già parlato che deve uscire adesso boh io ho scritto ion program identico alla dharma di lost sparare e ammazzare muori nasci death loop eh sì sì io questo lo conserverei per la prossima per il prossimo episodio scusami zampa ma puoi dire puntata eh basta che non scriviamo episodio nella descrizione degli episodi no va tutto questo crea una biforcazione semantica che è terribile eh il punto è che poi io devo chiedere a quei poveracci del post di cambiare tutti i titoli e tutti i metadati e non gli voglio male ne parliamo ne parliamo la prossima volta perché è in uscita infatti anche in questo caso strano che abbiano deciso di dedicargli del minutaggio secondo me il gioco è molto bello l'hanno messo secondo me in una posizione un po difficile perché doveva essere lo showcase con i new and exciting games ed era lo showcase con i giochi che conosciamo tutti poi uno stranissimo momento di pochi istanti Radiohead e Epic Games hanno presentato Key Day Amnesia Exhibition che sarà una eh un contenuto videoludico in qualche misura non lo sappiamo ma che accompagna la riedizione eh di Key Day e di Amnesiac che sta insomma uscendo adesso con anche contenuti aggiuntivi fra i due dischi di materiale mai pubblicato e quindi i Radiohead che in questo sono sempre stati dei draghi cioè hanno sempre avuto i video fighissimi, la comunicazione figa, le piattaforme, sono bravissimi per questa riedizione di due loro dischi storici, quelli della virata dopo che i computer decidono di mettere un piede anche nelle piattaforme videoludiche con Epic Games boh, sarà una roba da vedere, non lo so perché non mi chiedi cosa ho scritto io nella mia scaletta? perché non hai scritto niente e perché è musica e siccome hai una... musica, virgola, sti cazzi esatto, siccome sei una di quelle pochissime persone che questo linguaggio che accompagna l'umanità da migliaia di anni lo considera una sciocchezzuola quando hai parlato della virata dei Radiohead dopo che i computer io ho proprio immaginato la virata verso l'inascoltabilità catamarani in Polinesia bambine felici un po' nintendo si diventa gabbiano cane granchietto tartaruga ukulele avventura molto dolce per piccoli chi ci ha bello che si possono anche masturbare i granchi mi sono perso quest'ultimo frammento della presentazione devo essere onesto io mi sono abbiocato ma per la questione figli, stanchezze e tutto in questo momento e avevo solo questo ricordo di qualche immagine adesso visto che i ricordi sono confusi immaginerò solo la bambina che masturba i granchi non mi ricordo se fosse a un certo punto qualcuno qualcuno, sì forse lei, prendeva il granchio e gli faceva dei carezzoni un po' come quando il gatto fa e tu lo gratti e capisci che lì c'è sotto qualcosa di sessuale non è che il granchio legge i libri quindi o è fame o è dormire o è lotta per il territorio o è sesso quindi lì un po' dal punto di vista dell'umano e tenerezza dal punto di vista del granchio è quasi una scopata allora questo podcast abbiamo scoperto lo ascoltano anche dei bambini che capiscono poco di videogiochi dobbiamo forse aggiungere un pezzo prima dicendo oppure lo indichiamo nella puntata in questa puntata si parla di granchi masturba dai 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 andiamo avanti non ricitiamolo commentiamolo visto che ci sono dei bambini dicendo che potrebbe essere una versione videoludica di Oceania sì un po' sì oppure visto che siamo in tema di carezze al granchio usiamo il nome originale Moana bene ciao bambini allora poi ho scritto remaster di Uncharted sì qua siamo entrati nelle nelle produzioni Sony l'ora che si entri con la remaster di Uncharted e anche il suo arrivo su PC che credo sia una prima volta probabilmente già da qua si capiva che non sarebbe finita non sarebbe finita benissimo sì spieghiamo anche un po' qual è stata la struttura della conferenza la prima mezz'ora che abbiamo raccontato fino ad oggi fino ad adesso era proprio dedicata ai titoli cosiddetti di terze parti quindi quelli non sviluppati internamente da Sony e poi Sony ci ha tenuto a fare una chiusura con il futuro dei PlayStation Studios si comincia malino come giustamente diceva Zampa recupero di un titolo insomma uscito qualche anno fa non è proprio l'annuncio reboante e poi insomma anche perché Naughty Dog sta lavorando a pare il remake del primo The Last of Us a Factions che è il multiplayer di era all'inizio il multiplayer di The Last of Us parte 2 poi in realtà è diventata una cosa un po' più un po' più ampia e strutturata pare stiano cercando gente per nuovi progetti come è inevitabile che sia che tirino fuori una versione per PS5 e PC di Uncharted non benissimo poi è comparso io l'ho messo in quest'ordine forse mi sono sbagliato ma secondo me è qui che è comparso il boss di Guerrilla ex boss di Guerrilla si che adesso è il capo di tutti gli studios insomma l'olandese per dire il suo nome Alst Push the Boundaries PlayStation Studios ho detto solo questo nel senso che quando saltano fuori dicono ah we push the boundaries ragazzi abbiamo fatto cioè i videogiochi sono l'università del push the boundaries tirate fuori un'altra roba perché veramente beh c'è Kickstarter che ha preso il suo posto il latte fa bene è un po' quel livello di comunicazione anche un po' più debole poi Insomniac Wolverine ancora presto siamo carissimo amico ho scritto si puoi leggere anche quello subito dopo secondo me Polifoni Gran Turismo ah no no scusami allora ho sbagliato no lo ho messo io insieme perché ce ne parliamo di Insomniac hanno mostrato anche il e annunciato Spider-Man 2 in uscita nel 2023 sentiamo sentiamo che dice Matteo di Spider-Man Spider-Man 2 2023 rosso e nero col nemico slavo due coglioni manca un secolo arriva il cimurro della Malesia nel senso che facciamo in tempo a morire di un'altra pandemia il nemico slavo è Venom perché Venom è stato doppiato sai che ogni tanto vengono doppiati in quei modi yes I will destroy you e questo mi spiace maeslavo sì sì forse erano separati appunto in conferenza però è anche giusto secondo me affrontarli insieme perché secondo me è un'anomalia intanto che non è mai successo che una software house che è Insomniac in questo caso fosse presente con due annunci e secondo me è anche un po' un'anomalia che Sony abbia fatto un po' la figura della succursale di Marvel nel senso che insomma con Spider-Man è andato tutto molto bene era anche molto comprensibile insomma che volessero sfruttare quel personaggio Wolverine è stata una sorpresa che non si sa veramente quando arriverà però a me è un po' dispiace che Sony abbia destinato delle energie produttive a due titoli che vengono anticipati dall'etichetta Marvel mi sembra un po' una rinuncia a inventarsi degli immaginari nuovi a stupire il pubblico con qualcosa che sia propriamente videoludico cioè dieci anni fa c'era anche la volontà sì di andare sul settore supereroistico ma almeno di inventarsi qualcosa con Infamous oggi invece ci in nome insomma del sicuro successo commerciale si va un po' su quelli immaginari che sono già conosciuti e per me anche un po' spuntati sì c'è da dire che se devo affidare dei progetti che so che mi portano soldi in casa fossi Sony li darei esattamente insomma dal quale non è che mi aspetto tutto questo spunto e questa e questa inventiva quindi probabilmente loro avevano del materiale da mostrare loro che sapevano avrebbe fatto come dicevi tu parlare e avrebbe creato attesa c'è anche da dire che però non so adesso Marvel è fortissima perché veniamo da vediamo da dieci anni di Avengers tra tre anni tra due anni nel senso saremo ancora a quel punto forse sì perché comunque c'è Disney dietro forse però ci avranno anche un po' rotto cazzo questi supereroi io ho proprio quella paura perché il mercato videoludico si muove giustamente con tre anni di ritardo perché questi sono i tempi che servono per produrre un gioco quindi se tu cogli oggi una tendenza devi sperare che fra tre anni vada ancora tutto bene guarda l'unica loro speranza è che gli venga fuori come fu Arkham Asylum perché era oltre il tempo massimo dei Batman di Nolan però era un gioco talmente forte che insomma anche se era funzionava bene anche staccato da quello funzionava anche perché aveva un carattere che insomma era diversissimo rispetto a quello dei film dei fumetti e quindi lo effettivamente riportavi anche insomma con la mente all'ambito videoludico speriamo che ci riescano sì perché alcuni alcune di queste proprietà intellettuali sono in questo momento immerse da una loro declinazione che è quella del film o di una serie di film altre come nel caso di Batman sono talmente forti nella matrice che tu ce l'hai sempre chiaro che puoi avere una o l'altra declinazione lì erano stati bravi perché era sempre Batman completamente Batman ma allo stesso tempo era il loro e solo il loro tra l'altro questo elemento di personalità del gioco nel corso della serie di episodio in episodio si è un po' stemperato ha perso un po' mordente anche quella serie lì però bisogna vedere se saranno in grado di fare lo stesso mille anni fa intervistai il consulente musicale di EA e lui mi disse a un certo punto una roba fondamentale perché per tutti gli EA Sports lui diceva i cicli sono troppo lunghi se fai prodotti per gli adolescenti quindi se fai dei giochi che sai che verranno giocati dai sedicenni non puoi assolutamente dargli la musica dei loro 14 anni perché per loro è perché già in genere è vecchia ma per loro è vetusta e quindi lui diceva devi sempre anticipare in una fase in cui andava ancora molto l'hip hop nei giochi lui aveva scelto di levarlo completamente perché diceva è un'onda in cui adesso le madri ascoltano quello l'hip hop insieme alle figlie non va bene ritorniamo a una roba un po' più hardcore e aveva preso questa direzione di andare verso una cosa un po' indie punk un po' così proprio per evitare quell'effetto lì in cui tu cavalchi l'onda e poi quando finalmente il gioco è finito l'onda è andata chissà dove vediamo se riusciamo se riescono è già anche quello che in parte è successo al Marvel Avengers di Square Enix che è uscito in ritardo fuori da quel tempo già non aveva particolare ispirazione e carattere e ha pagato anche poi quel ritardo eccessivo Avengers ne ha presi due di ritardi cioè quello dei supereroi ma anche quello dei game as a service perché dopo Destiny tutti si sono buttati sulle grandi piattaforme questo è un altro esempio insomma della difficoltà nel cavalcare l'onda però sono arrivati tre quattro cinque anni dopo Destiny quando il game as a service aveva già stufato il pubblico più che altro erano già arrivati i Battle Royale che non ne hanno preso il posto polifoni gran turismo fanatici feticisti contro luce dettagli sembra bello è il solito gran turismo ma è il solito gran turismo Matteo ma l'hai visto scusami come era ricreato il tachimetro all'interno delle gran foto del gran collezionare gran turismo 7 ragazzi non me ne frega niente il gran turismo c'era la green room per fotografarti la macchina il cerchione il cerchione destro dell'Audi quella che si vede al minuto 2.45 quello era incredibile è vero è vero è fatto per quella ma anche poi la modellazione della Mercedes lo specchietto dell'Aston Martin che si vede quando lui ritaglia la fotina sul green screen se la mette con lo sfondo della torre di Pisa tutta storta che c'è l'Aston Martin che la tiene con le mani ma quello è pazzesco ragazzi ma i riflessi sul tubo di scappamento puoi fare le foto vi voglio dire puoi fare le foto con i filtri hanno fatto vedere forse 15 secondi di visuale dentro l'abitacolo e sembrava una roba vecchissima si 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 vede che lo sviluppo è cominciato su playstation 4 e poi si vede che sempre di più che questo non è ma ormai lo sappiamo da anni non è un simulatore di guida ma è un gioco di macchine mi voglio vedere le macchine in un modo che per quello ho scritto tanto collezionare siamo arrivati al feticismo cioè tu lo fai perché vuoi quella cosa è solo che lui è sempre più a briglia sciolta secondo me cioè in questa presentazione era quasi tutto un aspetta che gli do un'altra mano di lucido che mi è arrivato ieri l'ho comprato su oh guarda che roba ragazzi io dico solo la leva del cambio al minuto 1 e 42 eh sì spiderman 2 l'abbiamo già detto attenzione a god of war sempre con sto lagnone di padre e il ragazzino che parla come uno di portland c'è una donna forse sembra bene la testa slitta coi lupi mazzate soprattutto tanto tantissimo binario binario nel senso di binario non binario inclusività o binario nel senso di treno nel senso di treno nel senso che avevo l'impressione ho avuto l'impressione visto che questo è un gioco iper monstro totalone che ci fosse vabbè ovviamente nelle presentazioni ci sono molte sequenze cinematiche molte interazioni che non sono parte del gameplay in genere però ho avuto molto la sensazione che il già abbastanza pesante corredo narrativo cinematico dell'altro god of war si stesse addirittura crescendo sì io credo che insomma questo ragnarok sarà proprio ricalcato sul primo quindi insomma quando hai visto la slitta poi c'era la scena sulla canoa credo che un po' di apertura e un po' di esplorazione la vogliano comunque incentivare però sì poi insomma sarà una serie di scontri anche molto molto spettacolari perché poi anche quello è il nucleo portante del gameplay si fanno mazzate con creature della mitologia nordica abbiamo scelto nordico e non norreno è vero Zampa oggi a monte sì sì cancelliamo ripacciamo me ne vado sì io lo trovo vorrei dirlo perché sennò sembra e poi Zampa si scandalizza molto bello l'altro è giocato con grande goduri ha scritto benissimo un po' legnosette certe cose ma legnosette nel senso che c'è una parte appunto di racconto anche un po' epico e come tutte le cose epiche tende alla legnosità la testa per esempio è un elemento di ammorbidimento di tutto questo ehi ragazzo io ho trovato un po' fastidioso il fatto che lui dicesse oh papi mi sono imparato le palle cioè l'idra di lerna è questo è quello possibile che noi della mitologia di qualunque epoca sempre rompimenti di palle ragazzo il destino su di te è un maglio inarrestabile papi dai andiamo questa cosa a me sta un po' sulle palle scusate io esattamente come per guardiani della galassia ho sempre l'idea che sia il tipo di montaggio di quello che cercano di far beh ma in god of war io sono stato un po' infastidito da questa discrasia dei toni anche nel gioco lui legiosissimo figlio tu dovrai ogni cosa papà vuoi un pezzo di pollo il pollo è il destino del volatile ma c'era il bagaglio emotivo dietro degli altri io non l'ho trovato così fastidioso pesante la testa mi ha un po' riconciliato con i personaggi i due nani anche i due nani sì ma la testa secondo me è abbastanza top e anche qui ho visto ho visto che la testa era appoggiata sul tavolo che legge bene allora tutto bellissimo si vede però che è un progetto cross gen e secondo me è stato proprio spiegala meglio uscirà anche su playstation 4 l'impatto visivo che ha dato per quanto fosse god of war ne ha risentito un pochino perché insomma vedevi anche solo spider man forespoken ti danno chiaramente l'idea del gioco di nuova generazione god of war ragnarok sarà cento volte più bello di quelli sarà un gioco molto più divertente sarà scritto meglio sarà superiore in tutto però se lo vedi così ti dà un po' quella patinina sciapa del gioco per ps4 arricchito non so sinceramente perché abbiano deciso che questo dovesse essere anche su playstation 4 l'hanno deciso un po' di tempo fa secondo me il punto è proprio quello che dicevamo in apertura cioè hanno una base installata di console che supera i cento cioè si avvicina ai 120 milioni di là ce n'hai poche decine se ti va bene se ti va bene quando arriverà il gioco diventa una scelta che secondo me commercialmente è proprio necessaria necessaria assolutamente sì abbiamo dimenticato un gioco qual è? GTA 5 migliorato e aggiornato ecco l'unica cosa di cui dobbiamo rendervi conto è che maledetti l'hanno spostato a 2022 e io perdo dei punti al Fanta Critic ah perché il Fanta Critic adesso è diventato quasi più importante dell'uscita del gioco esattamente come quelli del Fanta Calcio seguono il campionato solo in funzione dei punti che faranno per me i videogiochi sono quello cosa vogliamo dire è il gioco forse più io non ricordo uno così longevo ho fatto tre generazioni perché è uscito sulla generazione PlayStation 3 PlayStation 4 e adesso PlayStation 5 per me l'obiettivo chiaro è quello di trascinare poco a poco il pubblico di GTA Online che è ancora sconfinato sulla nuova generazione e poi vedere un po' come continuare a ingaggiarlo senti là mamma mia sentite ma fra scusami ho una cosa da chiederti nei videogiochi quell'azione che tu tendi a fare per recuperare delle risorse che attenzione però non è aumentare la forza del tuo personaggio la sua esperienza perché quello è proprio l'accumulo l'accumulo come si dice allora ci sono varie scuole di pensiero se io dovessi scegliere una terminologia andrei proprio sull'idea di quasi coltivare come se fosse una fattoria o mi sia farmare perfetto la sua l'accumulo 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 Grazie a tutti.